Rieccoci su Spazio Notizia, bentornati su Sicilia 24. Apriamo questa nuova edizione parlando di Covid, bollettino settimanale della regione siciliana, bollettino che si riferisce alla settimana dal 2 all'8 maggio dove si registra un decremento delle infezioni da Covid in Sicilia. Vediamo il servizio. Nella settimana dal 2 all'8 maggio si registra un decremento delle nuove infezioni da Covid in Sicilia, lo dice il bollettino settimanale della regione siciliana. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa e Messina. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e 13 anni e tra i 6 e i 10 anni, incidenze superiori alla media in generale tra i 6 e i 18 anni. Le nuove ospedalizzazioni continuano a diminuire. Questi invece i dati relativi alla campagna vaccinale che fanno riferimento alla settimana dal 4 al 10 maggio. Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,51% del target regionale e 74.440 bambini pari al 23,64% risultano con ciclo primario completato. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,6%, mentre risulta aver completato il ciclo primario l'88,77% del target regionale. Attualmente 889.933 cittadini, dice la regione, possono effettuare la somministrazione booster, ma non l'hanno ancora fatta. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.719.424, pari alla 75,34% degli eventi diritto. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della seconda dose booster, la quarta dose, per gli over 12 con mancata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo primario da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della quarta dose agli over 80 ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità. Dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 12.853 somministrazioni di quarta dose, delle quali 8.729 ad over 80. E a proposito di seconda dose booster, quindi di quarta dose, lo stesso ministro Speranza si è rivolto ai cittadini delle fasce a rischio invitandoli a vaccinarsi. La pandemia è ancora in corso, siamo fuori dallo stato di emergenza, ma i numeri ci segnalano ancora una circolazione significativa del virus. Lo ha dichiarato il ministro della salute Roberto Speranza, rivolgendosi poi agli italiani. Abbiamo ancora una situazione da monitorare, ha aggiunto, e faccio appello alle persone più fragili di avere il secondo booster, è importante ancora informare le persone. La mortalità che ancora abbiamo è connessa a persone di età molto avanzata, quindi far fare il secondo booster agli over 80 può significare salvare loro la vita. Oggi, ha affermato ancora Speranza, abbiamo strumenti diversi e nuovi come farmaci antivirali e vaccini, ma la comunicazione continua ad avere un ruolo fondamentale. La guerra, ha osservato il ministro, ha sostituito la pandemia totalmente, quasi, da un giorno all'altro. Lo dico col massimo del rispetto, ma in realtà nella vita della nostra società la guerra e le sue conseguenze si sono aggiunte ma non hanno sostituito la pandemia. Questo produce una maggiore difficoltà a lanciare messaggi, invece abbiamo ancora persone che purtroppo perdono la vita a causa del covid. Adesso parliamo di cronaca, notizia da Melilli. Nel Siracusano i carabinieri hanno arrestato un 58enne di Sortino. L'uomo, un operaio forestale, seppur sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex compagna con l'applicazione della braccialetto elettronico, ha violato le disposizioni imposte dalla misura cautelare per i continui maltrattamenti che nel corso del tempo ha perpetrato nei confronti della donna. Nell'ultimo mese, infatti, si è più volte recato a Melilli dalla sua ex compagna, seguendola e in un'occasione anche colpendola con uno schiaffo. Per tali motivi l'autorità giudiziaria di Siracusa ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Notizia invece da Catania, dove i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 21enne per il reato di tentato furto aggravato. Nella nottata i militari sono stati allertati dalla centrale operativa a seguito di una richiesta da parte di un residente che all'incrocio tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Sassari aveva osservato strani movimenti in strada nei pressi di un'auto parcheggiata ad opera di due giovani, fornendo anche una loro descrizione. L'equipaggio della gazzella, recatosi sul posto, ha individuato e sorpreso i due giovani, tra cui il 21enne ancora a lavoro su una Mercedes. Il palo è riuscito a scappare, mentre il suo complice è stato bloccato e arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato accovacciato accanto alla Mercedes con le mani ancora sporche di grasso. Dunque è stato beccato sul fatto questo giovane ladro a Catania. E da Catania ci spostiamo adesso a Messina. La guardia di finanza ha effettuato una confisca beni per un milione di euro ad una società di navigazione. Tutti i dettagli nel nostro servizio. La guardia di finanza di Messina ha sequestrato beni per oltre un milione di euro a una società di trasporto maritmo e costiero di passeggeri. Nello specifico il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura della Repubblica per recuperare le imposte sottratte a tassazione. I militari del gruppo di Messina hanno sequestrato provviste finanziarie riconducibili alla società per un valore di oltre un milione di euro in porto pari all'evasione posta in essere negli anni 2016-2017-2018 constatata a seguito di apposito controllo fiscale attraverso agevolazioni fiscali consistenti nella detassazione del reddito e previsti per il comparto della navigazione. Più in particolare la società in argomento, beneficiando di tale regime agevolato, avrebbe sottratto a tassazione nella misura dell'80% il reddito derivante da una particolare forma di noleggio di una nave iscritta nel registro internazionale al quale, secondo ipotesi d'accusa, non avrebbe avuto diritto. A San Giovanni La Punta invece nel Catanese i carabinieri hanno scoperto un giro di droga con acquisti online e ritiri a domicilio. È stato arrestato uno spacciatore. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio a San Giovanni La Punta hanno arrestato con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi un 29enne gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari avevano sentito in paese che alcuni giovani di Aci Sant'Antonio per rifornirsi di stupefacenti, marijuana in particolare, erano soliti recarsi nel vicino comune di San Giovanni La Punta e che le loro ordinazioni della droga allo spacciatore viaggiavano su una nota applicazione di messaggistica. È bastata pertanto una veloce attività info-investigativa per consentir loro di circoscrivere il cerchio a quell'abitazione puntese di Via Firenze. Dopo aver constatato l'arrivo di alcuni compratori successivamente fermati e trovati in possesso della loro dose di marijuana, i militari hanno sfruttato la coincidenza del cancello dell'abitazione del 29enne, in quel momento rimasto aperto, per effettuare una perquisizione in casa. La ricerca, guidata dal cane antidroga, ha consentito di trovare tre dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio all'interno di una scatola di scarpe nascosta sotto il letto, nonché un bilancino di precisione e un borsello con la somma di 685 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività estortiva. Nel prosieguo dell'attività, inoltre, i militari nel balcone hanno trovato una busta di plastica contenente ulteriori 100 grammi circa della medesima sostanza stupefacente. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto del 29enne, disponendo altresì gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Un incidente si è verificato ieri sulle strade di Mazzara del Vallo, per la precisione lungo la strada statale 115, all'altezza dell'uscita dell'autostrada 29 Palermo-Mazzara del Vallo, un'auto, una minicar, si sarebbe scontrata con un camion finendo fuori dalla carreggiata. Alla guida della piccolo mezzo c'era una donna rimasta incastrata tra le lamiere dell'automobile che sarebbe stata poi liberata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale dai sanitari del 118 in codice rosso. Ma non sappiamo al momento, non abbiamo notizie sulle condizioni di salute di questa ragazza dopo questo incidente, come detto, avvenuto lungo la strada statale di Mazzara del Vallo. Adesso torniamo a Catania, ma per parlare di rifiuti. Dimostriamo anche degli scatti. Questi sono le strade del secondo municipio di Catania. Questo è un appello lanciato dal consigliere Andrea Cardello che dice «Le vie e le piazze di Picanello, Ognina, Barriera e Canalicchio sono talmente sporche e piene di rifiuti che la situazione si è fatta ormai drammatica». Dunque ha raccolto il consigliere Cardello le proteste dei cittadini e chiede per l'ennesima volta un immediato intervento all'amministrazione comunale. Le proteste, dice, ormai non si contano più e in alcuni casi sono gli stessi abitanti di una via o di una strada ad adoperarsi per tenere pulita la propria zona con scopa e paletta. La gente si sente letteralmente abbandonata e come se non bastasse la città è invasa dai rifiuti, rappresenta un pessimo biglietto da visita agli occhi dei tanti turisti. Le vie, dice ancora il consigliere di Picanello, Ognina, Barriera e Canalicchio, Andrea Cardello, le vie, dice, sono delle pattumiere a cielo aperto. Ebbene, da questi due semplici scatti in effetti si può evincere la gravità della situazione. Sono due semplici foto, ma vedrete queste strade appunto piene di rifiuti, anche in piccole aree a verde come sono in questo caso gli alberi. Vedete, è tutto sporco e quindi ha ragione il consigliere Cardello, ha decisamente ragione. Ma adesso vogliamo parlare di una bella notizia. Mentre si continua a combattere ancora in Ucraina e sono lontane ancora le notizie e le possibilità di una trattativa per la pace, nonostante gli interventi non ultimo, quello di Draghi negli Stati Uniti, dicevamo, mentre in Ucraina si continua a combattere, ci sono storie belle, positive, che partono dall'Ucraina per arrivare poi in Sicilia. E questo è il caso di quello che vogliamo raccontarvi oggi, appunto questo arrivo in Sicilia, finalmente al sicuro, di 63 bambini ucraini. Ucraini sono arrivati a Trapani, si tratta di bambini evacuati da diversi orfanotrofi di Mariupol e Kramatorsk, quindi parliamo di Donetsk. Sono accompagnati chiaramente da 21 adulti, compresi anche tutor dei ragazzini, anche alcuni educatori. Sono stati accolti, vedete, dagli scatti all'aeroporto di Trapani, c'erano il prefetto Filippa Cocuzza, il vescovo Monsignor Pietro Maria Fragnelli, il direttore della Caritas Diocesana, insomma tanta gente ad accogliere questi bambini che sono stati ovviamente sottoposti a tampone rapido, così come tutte le altre persone che li accompagnavano per loro poi la questura, predisposto la procedura per i consueti controlli di rito e per i flussi migratori. Dunque questa è certamente una notizia positiva per questi ragazzi, ci fa piacere chiaramente che Trapani si sia attivata in questo senso per accogliere appunto questi, ricordiamo il numero, 63 bambini, come detto, provenienti dalle zone di guerra in Ucraina. Prima di chiudere vogliamo ricordarvi una importante iniziativa, anzi un importante evento conosciuto certamente in tutta la Sicilia come l'Infiorata di Noto, vedrete che si svolgerà dal 13 al 17 maggio, quindi ci siamo in via Nicolaci, il tema della 43esima edizione sarà dedicato al ventennale dell'iscrizione alla lista UNESCO del Val di Noto. Il 29 giugno del 2002 infatti l'UNESCO iscriveva tra i siti Patrimonio dell'Umanità le otto città Tardo Barocche del Val di Noto, Caltagirone, Catania, Modica, Noto, Palazzola Creide, Ragusa, Militello, Val di Catania e Scicli. Dunque è tutto pronto a Noto per questo importante evento conosciuto ovviamente da tutta la Sicilia e non solo, sicuramente accoglierà in città tanti turisti, tanti curiosi, e quindi tutto è pronto, come detto a Noto, per la celebre Infiorata. E con questa notizia chiudiamo questa nostra edizione, ma ci ritroviamo più tardi sempre su Sicilia 24. Vi aspettiamo, a dopo.